Sono contento, è stato contento, una prova fattibile, è sempre il tempo un po' tiranno, ma era una prova, diciamo che è vero, era fattibile. Il tempo era poco, quindi potiva andare anche meglio, però non era una prova impossibile, la difficoltà che ho trovato maggiore è stata nel tempo a disposizione. Concorsone della scuola Alvia, ieri le prime prove per gli insegnanti che si sono presentati negli istituti trevigiani scelti per l'esame, arrivano da ogni parte d'Italia, ma quasi tutti stanno già insegnando in Veneto da anni ed attendevano da tempo il concorso straordinario per uscire finalmente dal precariato. Anche perché, vista anche l'età dei candidati, che è abbastanza, io mi ritengo uno dei più giovani, io un altro amico mio, e ho visto che c'era tante persone veramente che l'attendevano come l'acqua. Io arrivo dal Lazio, dalla provincia di Frosinone, però insegno da cinque anni a Vicenza. Il concorso, che mira stabilizzare gli insegnanti di media e superiori con almeno tre anni di servizio, è stato accompagnato nelle scorse settimane dalle polemiche con i sindacati che ne avevano chiesto la sospensione per il rischio Covid e l'impossibilità di sostenere prove supplettive per quegli insegnanti che si trovano in quarantena. Tra mascherine e termoscanner, per tutti la speranza è quella di entrare in ruolo ed avere un posto stabile. Speriamo, dopo un po' di tempo, insomma, vista anche l'età, ormai sarebbe ora. La speranza è quella, quindi diciamo è fatta apposta per questo, qualcuno ci riuscirà, qualcuno no, speriamo vada bene, incrociamo le dita.